Allora Allingrad e Mosca su B Un Mosca largo in linea 9 Un altro Mosca sempre sulla solita isoletta di G7 Ok Il Lemoy non so Posso provare anche a salire di esterno qua Ieri avevo provato a metterti qua Ho sperimentato una cosa ieri ma te la dico se hai finito di dire Cleberto ve lo so Cleberto si Il Mosca che provava a salire da qua Poi A un certo punto Visto che il Mosca fa fatica a salire Posso prendere io il largo per salire io esterno Mentre Mosca si guarda il canale Questo qua Io posso allargarmi io Allargarmi Vediamo perché sono molto pesanti loro Quindi all'inizio mettiti qua In Mosca si mette per di qua in kiting invece Ok Sì Un po' più largo Lo Stalingrad rimane leggermente più interno Sempre tutti in kiting Loro Proveranno a scendere con uno o due Stalingrad su uno dei due lati Dobbiamo capire quale Bella madonna Non puoi capire E' dal lato Non puoi capire Non puoi capire Non puoi capire Il Mosca Si Stavo tirando lo Staling Adesso Arrivo due cittadelle e lo Stalin, una prima e una adesso. faccio radar? è dietro l'isola lo Stalin sta scendendo? sembra bene sì De Moine Mosca, se riuscite ad angolarvi a fare focus sullo Stalingrad meglio? Sì, i radar vanno in 5 qua eh, la madonna Possiamo di qua ragazzi. Dobbiamo muoverci da questa parte questo Staling può essere focussato. Sì, dobbiamo focussarlo ha anche riparato l'incendio dai. De Moine Fire Radar è uscito per silurare il Kleber, eccolo lì Sta venendo avanti verso di voi eh Kleber il tuo obiettivo è non far rushare quel Kleber una delle nostre navi Fate focuss sul Kleber lì sul lato Mosca occhio a tonnelli indietro che d'altra parte ti sparano dall'altra parte della mappa Sì, ho preso, adesso mi fermo, ho preso un siluro io ho visto ma guardi lo Staling di questo Staling no, Jack Pickley no, Jack Pickley bello ma cazzo non è veramente un giro non è stato un giro è un giro ritiro è un giro come ragazzi aiutate non èhumano non è uova è un giro è che la scuola è un giro è un giro è un giro Muska, in caso sali a destra io salgo a sinistra. Vito passo. Eh, un attimo. Non posso andare a fianco a quello stale, farò sì. Ok. J.P. te controlla il radar? Ce l'ho. Prova a farlo. Beh, con le berseru puoi andare a lasciare lo stalin. Artec, lo vedi lo sci, ma l'ho preso con il mio radar. Eh, sì, ma non posso girarmi nel coltato. No, no, magari c'avevo una torretta posteriore. Ecco, posso lasciarlo lo stalin, grazie. Sì, vai. Vuoi che salga con te, Octo? No. Ok. Avete un idropper con lo stalin da sul lato, ok. Posso io un radar? Sì, dovrebbe sapere anche il Kleber dov'è. Da quello qui il Kleber? Mosca, mi serve una mano su questo Kleber. J.P.? Sì, ok, ci sono. Lo vedo adesso. È buono. Sì, bravi. Posso salire Octo adesso? Eh, tento sul lato, però. Sì. Sì, c'è, 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 c'è. Adar. Adar. Prima di non finire questo Stalingrad. Ok. Posso provare a salire qui in mezzo? Sì, ok. 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 De Moin, tu fermati qua. Mosca, scendi giù. Ti ripiego di là. Sì, 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 tutti e due Mosca. Le be si sta sforzando qua. Lasciamo perdere il Kleber, è inutile adesso. Sì, 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 mi fermavo qui vicino all'isola. De Moin, il tuo obiettivo è non farti torpedare dal loro Kleber e tenere il K, eh? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Vado a prenderla io, la Repubblica. Uno su questo Puerto Rico, ragazzi, su Puerto Rico, per favore. Io non ce l'ho più, adesso devo prendere l'altro, perché quello non ce l'ho più. Ce l'ho dietro l'isola. Incendio sul Mosca. Uno dei due Mosca, anzi, JP, fai radar. Sì? Sì? Sì. 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 Il Mosca è quasi giù, eh? No, il Goliath, scusa, non il Mosca, è il Goliath. Cazzo, non riesco ad ammarlo questo affanculo. Vuoi che provi a girare dietro? O vado su B con il Vampa. Vai avanti, se la Creare Pulic ti viene a prendere da dietro, occhio. Ok, 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 vista, vista. Allora scendo su B, eh? Allora, io ho l'idro, Pampa, il radar ce l'ho tra un minuto, eh? Ok, se l'ho spottato. S'ho spottato, ma non so. Eccolo lì. Il Kleber è sul Cap di A. Io però non ho radar, purtroppo. Sto andando a prendere io. Eccolo. Io vi direi che tutti fate focus, se ho fatto d'accordo, tutti sulla Repubblica. Beh, sì. Quando il Kleber, se lo Shimakaze muore. Eh, non lo so, non lo so, non lo so. Tutti su di Rancho. Arribi con il radar? No, 37 secondi, Pampa. Allanciai tutti? Sì. Spottato. Ok, bene. Spottato. E' un altro otto, veramente Dio santo, non sparo Beh, GP Bella Sto pensando a come stiamo giocandola rispetto all'altra sera E' una cosa un po' diversa Ma no, è un discorso di tanto, è un discorso di mentale No, 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 ci sono varie... E' una tipirina ultima, può darsi Potrebbe anche essere Che io e Ticcio ci siamo ottenuti 5 navi Menomai che siete arrivati voi Doping Per fortuna che non te lo fanno l'anti-doping, TJ Sono cose diverse Se noti c'è una tranquillità differente E' proprio diverso Vabbè, sono un insieme di fattori secondo me Comunque Legenda Eroso Mosca è essenziale Io non ce l'ho E' molto buono Non ce l'hai? E puoi aiutare, puoi aiutare, si Allora Allora